Le ultime ricerche scientifiche stanno dimostrando che se davvero vogliamo ottenere l'obiettivo di contenere il riscaldamento globale entro i due gradi, un terzo delle riserve di petrolio, la metà delle riserve attuali di gas e oltre l'80% delle riserve di carbone dovrebbero rimanere sottoterra fino al 2050. Eppure mentre discutiamo di questi obiettivi approviamo in delegazione ACP una risoluzione in cui si prendono accordi per lo sfruttamento di gas, di petrolio e di carbone in Africa. Al tempo stesso decidiamo di ridurre le estrazioni qui in Europa e invece le implementiamo in Africa. Noi dobbiamo soltanto essere meno ipocriti. Grazie a tutti.